Attenzione, miracolo cercasi! 3, 2, 1, sigla! Ciao, sono Anna Soave, ho 45 anni e sono una donna in menopausa da oltre un anno. Questo è il momento dell'anno che amo di più, perché mi diverto un sacco. Il miracolo, stiamo aspettando il miracolo, perché ormai siamo a marzo, ve lo vedete nessuno. Sta arrivando la primavera e sui social, non so se ci avete fatto caso, ma iniziano ad esplodere prodotti di dubbia provenienza, perché fino al giorno prima erano praticamente inesistenti, con un sacco di recensioni che gridano al miracolo. Pillole miracolose e beveroni e chi ne ha più ne metta che ti promette di avere un corpo tonico, asciutto e fantastico prima dell'estate. Peccato che un po' si rivela in un flop. Calma, 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 calma. Aspetta che mi combino anche un attimo. Non è così che funziona. Se ti dicessi che in 28 giorni potresti perdere da 4,5 kg a 8 kg, seguendo un'integrazione totalmente naturale, abbinata ad uno stile di vita sano, che significa 5 pasti al giorno, con alimenti che trovi tranquillamente al supermercato, ma che ti aiutano e ti supportano per arrivare al tuo obiettivo, non sarebbe meglio? Benvenuti nel grande mondo del percorso Slenderize. Lo stesso che ho abbracciato io e che ne sono rimasta talmente entusiasta che ho deciso di condividerlo con tantissime persone. Sono sicura che l'avrai visto sui social, avrai visto qualche trasformazione, magari hai parlato anche con qualche mia collega, e ti ha magari ispirato, ma so anche che quando si arriva un po' a filo, cerchiamo sempre la scorciatoia ed il miracolo. Io penso, anzi, sono sicura che il grande miracolo e la grande magia la puoi innescare tu, con un percorso tra le mani che è veramente unico, innovativo, totalmente naturale e che aiuterà il tuo corpo, ma non solamente per arrivare all'estate in forma, ma per sempre, perché voglio dire, ci viviamo 12 mesi all'anno nel nostro corpo, non solamente da giugno a settembre. Cosa dici? Ti aspetto per darti tutte le informazioni che vuoi, per chiarirti tutti i tuoi dubbi e vai subito nella descrizione di questo video, clicca il link Bitly e ti aspetto su WhatsApp. Sono sicura che insieme troveremo la soluzione adatta a te. Ti ricordo che per essere aggiornati su ogni contenuto della Pink, devi iscriverti al canale e attivare la campanella. Noi ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao!